La tana del frerito Ciao broderigno Dai vorrei fare un po' di di imitazioni C'è qualche imitazione che vorreste? Omi, ah Omi mi viene bene Eh ma Omi è un po' che non guardo le sue live magari ha cambiato modo di di parlare Ho detto che faccio un'imitazione di Omi Ritorno nell'imitazione di Omi? Io imito l'Omi che seguivo io Magari adesso non fa più così però imito l'Omi che seguivo io Vabbè adesso tipo vedo che fa le live con le cuffie Solamente Ciao Ciao Benvenuti in questa live Oggi facciamo un po' di di casino di robe nostre che ci piace fare Vediamo se c'è già Hank Va bene Va bene Adesso andiamo un attimo su YouTube a fare delle reaction Grazie Emanone Grazie mille Ehm Vediamo un video di Riccardo Dose Che sono un Crypto Guru Sei pronto? Oh Anc Non va Non va La condivisione dello schermo Non va Non va Non va Grazie Francescone Grazie Porca puttana Aia Aia la gamba Aia Sottola la gamba È vero È vero Tra l'altro Devo cambiare le mot Da 20 Devo mettere le mot Con scritto 21 Porca puttana Mettiamo Xyuder Buon salve Buongiorno E benvenuti In questa live Mattutina Dedicata A Fortnite Come la va Come la va Ragazzi Allora Oggi un sacco di cose belle Ehm Partiamo Salutando subito La moderazione Allora Saluto Al Felix Cyberrage Dai Almond Poci Marco Grazie Grazie ragazzi Grazie mille Grazie Allora Oggi un sacco di novità Perché c'è la patch 3.0 Di Fortnite Quindi un sacco di novità Ragazzi Poi dopo faremo un po' di arena Con pizza Con FSO Ci divertiamo ragazzi Dai 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 che ci divertiamo Che dopo andiamo insieme Un po' Andiamo a pranzo con la Pami Dai dai che ci divertiamo Ci divertiamo Allora Prendiamo subito Prendiamo subito Fortnite Oh Grazie Ma cosa fa Simone ma cosa fa Con le patatine Grazie Grazie mille Grazie Grazie Money 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 Usciti Understanding Dollar Money 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 Grazie Grazie Mille patatine Grazie 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 mille grazie mille la parca puttana grazie signore grazie grazie mille grazie le patatine grazie mille vabbè ce l'ho? è blu? è white? l'ho preso è white? è white? grazie grazie matteo grazie mille grazie di 50 patatine grazie mille white craccato? craccato? no pami 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 eh allora continuare qua a lavorare pami pami via 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 sto lavorando un attimo eh ma guarda che è pronta la cena eh no no pami adesso sono white oh ok ok grazie 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 grande xuder mi vado troppo bene xuder cazzo troppo forte xuder ecco xuder che sono uno dei pochi che seguo che la mattina la mattina il povericcio quando mi sveglio le guardo adesso live perché quando lavoro non accendete quel cazzo di forno mi faccio un culo così la domenica mattina che non c'è nessuno e per quanto volano di merda non le facciamo più quando lavoro il forno resta spento non li riprenderemo mai non li riprenderemo mai troppo forte xuder grazie stefano grazie mille troppo forte xuder no il porcone non lo aggiungo mi spiace il porcone non lo aggiungo ma che ti sei pippato oggi non ho pippato niente non pippo io io vivo solo di sorrisi e di serenità oh lui va al circo eh pami lui va al circo arriva il brother mi manca stare da solo in mezzo al mare pure quando è mosso prendi una barca per starci con me voglio stare l'altro anno all diremo saura mi manca stare da solo in mezzo gli io Grazie a tutti.